Elicotteri e unità cinofile a setacciare il territorio, denominata le grotte, la vasta operazione di polizia giudiziaria d'Andrea, finalizzata a smantellare una vera e propria centrale di droga. La polizia di Stato è impegnata nell'esecuzione di 10 misure cautelari, 5 in caccia e 5 agli arresti domiciliari nei confronti di appartenenti ad un gruppo di pusher federiciani legati a sodalizio criminali locali. I risultati dell'intensa attività investigativa messa in campo resi note in conferenza stampa presso gli uffici della Procura della Repubblica del Tribunale di Trani. Alla presenza del procuratore aggiunto, dottor Giannella. In carcere, Nicola Inchingolo, Tommaso Di Palma, Nicola Bonadie, Roberto Fondo e Francesco Gentila. Gli arresti domiciliari invece, Maura Troia, Adolfo Leo, Sabino Pistillo, Berardino Leonetti e un soggetto divenuto collaboratore di giustizia residente a Palo. Il deposito della droga nella casa di una giovane 23enne. La sostanza stupefacente tra marijuana, ascisce, eroina e cocaina proveniva da Palo del Colle ed era indirizzata a clienti del sud barese e della Basilicata. Durante l'importante operazione, sequestrati due chili di droga. Grotte nasce proprio dal termine, in dialetto, in vernacolo andriese, con cui definivano il loro punto d'incontro. Ripeto, come abbiamo già detto anche in conferenza stampa, che non si tratta di un gruppo ben organizzato, ma aveva una struttura organizzata a compartimenti stagni, nel senso che poi si aveva un passaggio anche della clientela in base a quelle che erano le esigenze, sia dei clienti che dei fornitori stessi, magari quando ne erano sprovvisti passavano i loro contatti agli altri individui. Quindi non possiamo parlare di un'organizzazione, anche perché avremmo dovuto contestare altre ipotesi di reato. Un'imponente attività di indagine condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Andrea con l'ausilio del reparto Prevenzione, Crimini di Puglia Settentrionale, del reparto Volo e di Unità Cinofile della Questura di Bari, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani. L'inchiesta avviata a seguito di una rapina a mano armata avvenuta due anni fa in un negozio di vernici nel centro di Andrea. Ebbene, le persone coinvolte erano in qualche modo legate allo spaccio. Immediata l'indagine, che avvalendosi anche di intercettazioni telefoniche, evidenziava il collegamento e gli spostamenti, nonché l'utilizzo di nomi di liquori, per indicare la droga a seconda dei colori, ad esempio Bailess per la coca, Montenegro per l'eroina. Immediato il lavoro di concerto tra le diverse forze dell'ordine, che hanno così messo in luce un marketing della droga con prezzi a ribasso o dosi, inizialmente cedute gratis, così da fidelizzare i soggetti da assorbire o riassorbire in un vero e proprio mercato di sostanze stupefacenti. Abbiamo constatato un elemento nuovo rispetto a quelli che sono gli elementi che abbiamo riscontrato in altre operazioni di questo genere. Cioè che in questo caso, in alcune circostanze, venivano ripresi i contatti con alcuni individui, che evidentemente su quelle utenze telefoniche non chiamavano più, per riassorbirli in quello che era il loro mercato delle sostanze stupefacenti. Alcuni avevano tentato evidentemente di uscirne, altri forse avevano trovato altre vie di approvvigionamento. E la prima volta che ci succede questo, tra l'altro, l'operazione di marketing era condotta anche con abbassamenti di prezzi, addirittura di cessioni anche senza pagamento di alcuna somma, proprio per provare la qualità ottima della sostanza.